salve care amiche ed amici rimando ai miei cordiali i più cordiali saluti e auguri per un buon anno nuovo ma soprattutto adesso per un buon natale poi magari vi manderò dei filmati per l'anno nuovo dei botti e mi filmo di notte perché si possa apprezzare meglio l'alberello albero di natale gli cambiamo il ritmo che sia un po più rock come diceva adriano celentano rock ecco questo è rock qualche significa allora buon natale a tutte e tutti mi raccomando continuate ad appoggiarmi a seguirmi va bene poi mi mancano prodotti tecnologici perché mi si stanno rompendo quelli che ho e se qualcuno mi volesse fare un regalo di natale mi regalasse un s4 un note terzo e se no perlomeno fate clic nei banner pubblicitari ringraziandovi di tutto ai prossimi video e ciao felice natale fate clic nei banner pubblicitari perché così magari guadagno qualcosa che sono disoccupato ciao e ciao travaglio mi raccomando e se tu mi volessi dare lavoro nel fatto quotidiano io sono sono disponibile essere il migliore collaboratore giornalistico e magari anche a pubblicarmi qualche libro e ciao